Salve a tutti, io sono Giorgio Roma, questo è il mio canale YouTube Mr. Giorgio, benvenuti a questo nuovo tutorial. Oggi vi mostrerò come creare il nodo Head Rage. La pala grande della cravatta sul lato destro, quella piccola sul lato sinistro. Ora, creiamo la nostra fossetta centrale, andiamo a destra, dietro, al centro. Preghiamo in avanti verso destra, poi andiamo al centro da dietro, in questo modo. Cerchiamo di controllare tutti i passaggi, andiamo dietro, qui. Adesso allarghiamo e dobbiamo passare qui dentro. Così. Ora questo lo facciamo girare qua dentro. In questo modo, verso il basso. E chiudiamo su. di nuovo al centro. In questo modo. tiriamo su. A partire il cesso la nascondiamo dietro. ed ecco il nodo Head Rage. Bene, grazie a tutti per l'attenzione. Vi invito nuovamente a iscrivervi al mio canale YouTube Mr. George e a seguirmi sul mio blog. Grazie. Arrivederci alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.